Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Cosa sta succedendo tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise? La conduttrice di Battiti Live sta frequentando Giulio Fratini, ex fidanzato della collega? Scopriamo tutti i dettagli. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise, stanno insieme? Una serie di indizi sembrano rivelare dei retroscena inaspettati. Scopriamo cosa sta succedendo. Leggi anche, Giulio Fratini, chi è l'ex di Roberta Morise beccato con Elisabetta Gregoraci? Età, patrimonio, lavoro, nuova fidanzata, Instagram Roberta Morise Altuiga, una foto fa infuriare la Gregoraci nelle scorse settimane ha fatto chiacchierare parecchio un gossip riportato da Dago Spia sulla presunta gelosia di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Roberta Morise. Pare che la conduttrice di Battiti Live non abbia particolarmente gradito l'ultima foto Instagram che ritrae la collega Rai con Daniela Santanché durante una serata Altuiga. Ma cosa c'entra questo scatto con la Gregoraci? Foto di Daniela Santanché, IG, stando a quanto specificato dalla Santanché, la Morise si sarebbe recata Altuiga, locale di proprietà di Daniela e di Flavio Briatore. Subito il pensiero è andato, quindi, all'ex marito della Elisabetta Gregoraci con il quale la donna ha un legame molto forte. Ma nulla è come sembra. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme, a creare tensione tra la Gregoraci e la Morise pare sia stato Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta fino a poco tempo fa. Il giovane e facoltoso imprenditore è stato pizzicato dal portale Very Inutil People allo stesso tavolo di Elisabetta e proprio Altuiga. Ecco a voi Giulio Fratini, foto, chiocciola Fratini, IG. Nel locale incriminato la Gregoraci e Fratini avrebbero trascorso diverso tempo insieme e si sarebbero mostrati molto affiatati. Amicizia o l'inizio di un'una relazione? Intanto i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram e sui social network Giulio è diventato pure follower di Nathan Falco. Ecco, inoltre, cosa avrebbe dichiarato Elisabetta Gregoraci ad alcuni amici, Roberta Morise e Giulio Fratini, perché si sono lasciati? Dopo l'esperienza in Honduras Roberta Morise ha scoperto un tradimento da parte dell'ex fidanzato Giulio Fratini, che l'ha portata a chiudere il rapporto dopo un anno e mezzo e diversi progetti di famiglia più volte annunciati alla stampa. E voi cosa ne pensate? Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise, stanno insieme? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!